ciao a tutti amici eccoci con un nuovo video però prima di continuare vorrei ricordarvi di iscrivervi al mio canale su questo canale e fa anche sull'altro canale il mio nuovo canale natura e cucina abbiamo fatto un fan c'è anche con l'altro canale a fine video troverete sempre il logo del mio canale che basta cliccare lì sopra e andare direttamente nel mio nuovo canale grazie a tutti amici adesso passiamo la nostra casa ciao a tutti amici volete mai sul canale oggi siamo di nuovo con qualche bollettino un po insolito per la linea che vi ha portato un cento buerro guardate un po io non so neanche come la devo inquadrare è un biglietto che io non compro mai o molto raramente però oggi mi è andata così ok questo è un numero 55 è una serie 55 del numero 7 ok poi due cuccioletti questi sono 1 e 2 serie 20 ok la cazzina mia che mi ha col sottofondo della cazzina ok cominciamo con il numero 1 cominciamo con il biglietto della cazzina mia ok allora ho coltoletto di cazzina numero 1 cominciamo con il biglietto della cazzina ok buona 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 a tutti amici e passiamo alla nostra cazzata allora partenza chi dice destra destra sinistra e finita sono arrivati ok allora vogliamo il bonus abbiamo un fiore vediamo un po se troviamo il fiore allora coppa, cibo, gabbietta, casa, albero, peccina e fontana qui abbiamo il collare, il cuscino, le forbici, la lattina e la metalletta, niente, il biglietto non mi intendo amico primo biglietto, ciao ciao, passiamo al secondo, c'è la canina, vediamo un po' se il cagnolino è più fortunato, numero 2 vediamo, vediamo, allora partenza, sempre destra, giù, sinistra, su, e siamo arrivati, quando fa così ciao ciao, allora panchina, qui abbiamo un collare, palla e fiore, cuccia, fontana e coppa qua abbiamo, medaglietta, cucina e cuore, continuiamo con il cibo, coccarda, questo è un divano ti possiamo sedere ma non è una panchina, pettine e sabone, niente, biglietto non mi intendo amico, numero 2 passiamo al nostro colosso, adesso che io non so neanche come devo inquadrare, vediamo come devo fare, devo chiudere un po', ok, va bene così, penso di sì, allora vediamo un po', questo è il cento vero, 655 numero 7, e vediamo che ci dice, il letto insolito della lina, allora, incominciamo con i numeri 234, 45 e 31, qua abbiamo per 2, abbiamo un 27, qua abbiamo un 12 e un 21, ok, vediamo un po', primo numero, abbiamo un 54, niente, il 50 non c'è, 40, 51, 25 e 35, abbiamo il 34 naturalmente, poi abbiamo un 39, niente, 13, c'è il 12, 37, 27, 29 e 15, niente da fare, no, non ce l'abbiamo, vediamo un po', 41, non ce l'abbiamo, 41, non ce l'abbiamo, 11, 14 non ce l'abbiamo, 17 non ce l'abbiamo, e 33 non ce l'abbiamo, c'è sempre il 34, poi l'ultima riga, 19, qua abbiamo 36, 23, 23, niente, 53, non ce l'abbiamo, e 55 neanche, ultima riga, abbiamo 18, niente da fare, 28, non ce l'abbiamo, 44, niente, 34, niente, 35, niente amici, il biglietto è il numero 7, e vabbè comunque, con un biglietto così si aggiazza un po', è vero, comunque l'ho fatto volentieri, perché volevo provare, l'altro tempo che non lo provavo, ho detto che lo voglio provare, e niente, sarà per la prossima volta amici, questa volta non siamo fortunati allora abbiamo abbracciato un biglietto uno da 20 e due da 3 e abbiamo ripreso zero mi dispiace ma non c'è una vincita niente vincita è andata in vacanza a settembre quasi a fine agosto ok amici e niente io ti ho provato vi ringrazio a tutti per la visione amici buon caldo ancora a tutti iscrivetevi contribuitete il pollicante però carissimi amici non scappate aspettate un attimo che vi devo mostrare una cosa guardate un po' cosa mi è successo allora quando ho comprato i biglietti al bar dove sono stata ho comprato ho grattato questo biglietto e guardate un po' cosa mi è uscito 3 euro la prima volta sono 50 euro è vero? allora lo mettiamo insieme al 100 verbo ardente ho pensato di mostrarvi questo anche ok che c'è una bella vincitina ho detto così lo aggiungiamo al video ok un biglietto linea vincense che io non compro spesso questo era il biglietto e il biglietto 11 che la serve in 84 84 o 94? non vedo più 84 ok e comunque grazie a tutti ho messo ancora per la visione vi volevo mostrare questa diciamo vincitina recupera come si vuol dire quello che si perde sempre sempre un recupero 50 euro sono stata contenta che è anche la prima volta che vi succedeva grazie a tutti ancora ciao al prossimo video un bacio e un abbraccio sempre dalla Lina ciao ciao al prossimo video ciao al prossimo video